Assunta Galbiati, presidente di ASIOT, ricorda come oggi meccatronica, fluid power, motion control, digital e software siano componenti essenziali dell'automazione industriale tanto quanto la trasmissione di potenza. Per questo ASIOT vede in SPS Italia la migliore vetrina per mettere in mostra l'eccellenza italiana nel settore. Sentiamo ora cosa ci ha detto. SPS perché? Perché c'è in corso un notabile cambiamento nel nostro settore. Dove le nostre aziende sono chiamate a rispondere? Parliamo di automazione industriale, parliamo di formazione Industria 4.0 e quindi le nostre aziende hanno bisogno di visibilità. SPS può essere una vetrina e un'opportunità per tutte le nostre aziende per fare networking, per confrontarsi. Quindi parlare anche di formazione dove c'è una grande necessità di formazione nelle nostre aziende. Quindi la possibilità di essere presenti in SPS fa d'accollante tra le nostre aziende, gli studenti e la scuola. Credo sia un'ottima opportunità per tutti i nostri associati. Si parla sempre di integrazione di filiera e visto che nell'automazione industriale i movimenti di potenza sono presenti è un'opportunità per incontrare anche i partner di filiera. Abbiamo proposto il progetto che ho trovato innovativo e ben strutturato, l'abbiamo presentato ai nostri associati, è stato condiviso e saremo presenti. Grazie